Mi stavo domandando carneade chi era costui? No scherzi a parte mi piace molto questa frase con cui iniziano i promessi sposi ma quello che mi stavo domandando è questo e che quindi ti domando ma come fai a far funzionare al meglio la tua macchina se ci metti dentro schifezze? Se al posto della benzina, del diesel o della ricarica elettrica, qualsiasi automobile tu abbia ci metti dentro che ne so nutella, caffè, alcol, grassi vari, forse stai iniziando a capire dove voglio andare a parare e la macchina di cui ti sto parlando è la macchina corpo umano organismo umano e quindi la mia domanda per te è ma come pensi di far funzionare bene il tuo organismo, il tuo corpo, mente, spirito se dentro ci stai mettendo un sacco di schifezze e per schifezze intendo cibi e quindi cibi malsani, non naturali, industriali, stracarichi di grassi saturi e animali che fanno malissimo, sono tossicissimi per la nostra salute, pieni di zuccheri raffinati, zucchero bianco, farine bianche raffinate quindi e magari poi ci metti il caffè, tanto caffè, l'uso di alcol, il fumo e poi oltre a questi fattori appunto materiali, alimentari, di cibi e di sostanze intossicanti, magari ci metti pure dei pensieri negativi, distruttivi sulla tua persona, sulle tue potenzialità e sulle altre persone e con i pensieri distruttivi e negativi logicamente arrivano anche azioni distruttive come possono essere appunto il mangiare male, squilibrato oppure non dormire bene, dormire poco, stare troppo al computer o attaccato al cellulare fino a tarda notte, piuttosto che fare una vita sedentaria, non muoverti, andare sempre in giro in auto, con i mezzi pubblici e non fare mai una camminata, magari anche a passo un po' più sostenuto, con la bicicletta o fare un po' di movimento fisico, mettere la musica, ballare, insomma abbiamo un sacco di cose noi esseri umani che possiamo fare per stare bene, fortunatamente e non solo e ce ne inventiamo sempre di più, quindi abbiamo anche una grande creatività, per cui io ti dico ma quando vuoi iniziare a prenderti cura di sto benedetto corpo macchinario umano? Quando? Pensaci un attimo, ecco se ci hai pensato o non ci hai pensato ci pensi dopo, io oggi ti dico che è fondamentale che tu inizi adesso, subito, fin da quando metterai giù il telefono, il computer, quello che stai usando per vedere questo video, perché non c'è tempo da perdere, ti sembra a volte che il tempo così sia una cosa sospesa che non esiste, invece il tempo passa, il nostro organismo, una martellata dietro l'altra, se non oggi, domani si ammalerà e soffrirà, ti mostrerà la sua sofferenza e questa sofferenza si può palesare sotto forma di malattie più o meno gravi, malesseri, possono essere anche il famoso mal di testa del fine settimana e perché viene nel fine settimana? te lo sei mai chiesta? Forse perché durante la settimana sei tanto tesa e stressata che neanche il mal di testa riesce a venire a trovarti e allora viene al sabato, viene alla domenica o magari perché sabato o la domenica ti lascia più andare e ti straffoghi di qualche cosa che durante la settimana non mangi e quindi martellata dopo martellata il tuo organismo cederà a un certo punto a livello fisico, a livello mentale, a livello di mancanza di energia soprattutto e come prima cosa perché ricordati che se mangi male, se non dormi, non fai attività fisica, se inizi a pensare negativamente, la prima cosa che ti va via è la buona energia questa buona energia invece va nutrita e sostenuta quotidianamente passo dopo passo, minuto dopo minuto, non c'è un minuto in cui noi ci spegniamo e ci mettiamo nell'offa e quindi tanto vale imparare come restare in connessione. Questa cosa io la faccio nel percorso 12 settimane per liberarti che propongo alle mie clienti e in questo percorso aiuto proprio le donne a ritornare a prendersi cura di sé quindi ad avere fiducia in se stesse, piena fiducia nelle proprie potenzialità per riscoprire il proprio potere personale femminile con quella caratteristica di armonia, di dolcezza, di compassione che dovrebbe essere la prima e meravigliosa caratteristica che noi donne portiamo in questa benedetta madre terra e tutto questo voglio trasmetterlo alle mie clienti affinché esse diventino delle nuove donne per un nuovo mondo e quindi imparino a fare del bene a se stesse per poi farlo al resto del mondo, alle persone che le circondano e quindi le accompagna a poter realizzare una vita pagante, libera e felice e in salute e in equilibrio di corpo, mente e spirito se anche tu vuoi intraprendere un viaggio fantastico nel rincontro con te stessa e quindi vuoi ritornare ad avere fiducia in te, a riattivare il tuo potere personale, a sviluppare le tue potenzialità puoi farlo, puoi compilare il form che trovi qua sotto nei commenti per richiedere una call di svolta gratuita in cui mi parlerai della tua situazione, dei tuoi obiettivi e se ti potrò accompagnare nella realizzazione dei tuoi obiettivi allora ti spiegherò più nel dettaglio come funziona il percorso grazie grazie grazie